Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Two Point Hospital. Allora gente, siamo nel terzo ospedale. Avevo detto che volevo fare due stellette prima di passare all'ospedale successivo, ma per esempio nel secondo mi è stato impossibile perché migliorare il numero di macchinari, la qualità dei macchinari, il livello dei macchinari, anzi, semplicemente non avevo i macchinari da sbloccare, quindi in questo caso ho dovuto passare al terzo ospedale in modo che sbloccando le varie cose potessi poi acquisire i macchinari da utilizzare anche nel secondo. Insomma, è un po' così e come vi ho già detto assomiglia molto a Jurassic World Evolution o questo tipo di cosa e mi piace, devo dire. Non mi dispiace affatto. Ora, nel terzo ospedale abbiamo questa cosa meravigliosa che cura una clownite, mi pare, si chiama qualcosa del genere, mi pare. C'è il deumorificatore che è fantastico, porca miseria. Entrate, spese, eh, abbiamo tante spese qua. Ok, sta arrivando l'infermiera, adesso voglio davvero vedere cosa succede. Ah, intanto sta arrivando l'emergenza, è vero. Arriva il... dov'è il paziente? Ah, doveva andare in bagno, ho dovuto arrivare fino a qua. Eh, vabbè, oh. Amen. Ora che ci penso, non ho mai visto in azione per bene neanche questo macchinario qua. E porca miseria. Tutte e due insieme? Vabbè, vediamoli insieme. Vabbè, questo è piuttosto semplice. Ah, ma guarda che roba. Lo fa entrare lì e lo deprime un po'. E questo si leva il costume da clown. Ma possiamo migliorare il macchinario svitatrice per renderlo più efficace. Ok, dopo però, dopo l'emergenza. Ah, deve andare in bagno l'inserviente. Ok. Ok, ok. Ah, si sta affollando, eh. Porca miseria le code. Eh, sette pazienti. Minchia, devo fare un terzo medico di base, davvero? Oddio, potrebbe anche essere necessario, effettivamente. Ok, premi annuali, vediamolo subito. Oh, sei su otto. Molto bene. Grazie. Eh, devo fare un terzo medico di base, mi sa. Eh, sì, ragazzi. Devo fare un terzo medico di base, per forza. Ok. Sta veramente affollando l'ospedale. Ma un bel po' proprio. No, estintore no. Pianta. Ok, vai. Ah, devo assumere medico. Oh, finalmente inizia a esserci qualcuno di decente. Vediamo tre medico. E ho medici, questo è fantastico. Via, prendere immediatamente. Inservienti, questo è... Ok, no, assumiamo... Assumiamolo, perché comunque... Allora, adesso... Devo formare i membri dello staff. Assolutamente. Quindi. psichiatria diagnostica, staff formato, gestione farmacia, staff formato 3, manutenzione, meccanica, medicina generica 2. Ok. Un tirocinante disponibile. Vai. Ah, ma aspetta, però. No, 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 no. Tirocinanti quanti? Quattro, l'allenamento alla resistenza. Mi piace. Ok. Formatori disponibili. Ah, prendiamolo... Prendiamolo da fuori, perché... Ah, ok. Va bene, facciamo così. Medici 6. 5 infermieri, 2 assistenti su... Ah, vabbè. E 4 inservienti, ciò. Va bene, dai, dovrebbe andare bene. Nuova malattia, licantropia. Scoperta. La licantropia, creduta estinta, sta tornando nelle pericolose foreste di tutto il paese. Si contrae per esposizione diretta alla luce della luna piena, o a volte a causa delle maniglie delle porte. Mamma mia che... Sono in corso ricerche per capire quali. Bene, farmacia. D'accordo. Bene, direi che adesso sta migliorando un po' la situazione finanziaria. Aspetta. Si può allargare questa cosa? Ah, macchinario svitatrice. Vai, miglioriamolo. E questo... No, questo non si può. Questo neanche. Questo va bene così. Questo va bene così. Ah, ma una volta migliorato non devi migliorarlo in continuazione. Lo fai e basta. Grande. Oh, tra parentesi, mi pareva di aver... Infatti, ci sono dei premi qua alla carriera. Dov'è? Migliora 5 macchinari. Ottieni. Ah, 100k. Molto bene. Torniamo qui. Va a migliorare la svitatrice. Oh, c'è ancora... C'è ancora l'emergenza, è vero? Grande, grande, grande. Sta facendo appena in tempo. In Temospital, quando ti arrivavano delle emergenze con veramente troppi, troppi pazienti, effettivamente era bene... Era bene rifiutarli, perché poi se fallivi i malus erano piuttosto evidenti. Ah, segnalazione speciale. Perfetto, 7 pazienti su 7. Molti pazienti sono in coda fuori da stanze gestite da medici, ma non ce ne sono di disponibili. Dovessi assumere altri medici. Ok. Vabbè, questo è quasi decente. Minchia, si sta veramente popolando, eh. Staff, allora, come si promuove l'agente? Revisione stipendio, assegnazione lavori. Allora, assegnazione lavori staff, vediamo un po'. Vedi quali membri dello staff sono qualificati a eseguire ciascun tipo di lavoro nell'ospedale e controlla chi ha il permesso di farlo. Per esempio, se vuoi che solo i tuoi dipendenti migliori lavorino nell'ufficio del medico di base, puoi disattivare quel lavoro per lo staff junior. Per impostazione predefinita, ogni membro dello staff ha il permesso di fare qualunque lavoro se ne possiede la qualifica. Usa i pulsanti per attivare e disattivare ciascun lavoro per ogni persona. Ok, questo è interessante. Ehm... Tipo... Leviamo questi. Ok. Vabbè, questo non è molto importante. RIVISIONE STIPENDI Visualizza gli stipendi dello staff e vedi la soddisfazione del personale. Quando i membri vengono promossi e formati, si aspettano uno stipendio più alto. La loro soddisfazione a riguardo ne influenzerà la felicità generale. La faccina vicina allo stipendio di ciascuno indica il livello di soddisfazione. Per concedere un aumento, modifica il cursore sotto lo stipendio e poi clicca sul pulsante di conferma. Per aumentare rapidamente lo stipendio a tutti quelli che si sentono sottopagati, usa il pulsante soddisfa salario richiesto. Vabbè, per adesso però... Va piuttosto bene. Vedremo dopo la formazione. Per esempio qui, forma membri dello staff... Cos'è qui? Ah, sfida. Promuovi tre membri dello staff. Accetta. Eh, però come si fa a promuoverli? Stavo appunto cercando di capire. Torna al lavoro, revisione di stipendi, incarichi, forma, licenzia. Devo promuovere. I termini dello staff ma non ho idea di come si faccia. Vabbè, comunque c'è tempo. Allora, corsi disponibili. Tirocinanti uno staff formato zero. Tirocinanti uno solo, vero? Corso di perfezionamento in formazione. Ok, questo potrebbe essere interessante. Tirocinanti uno solo, vero? 10% abilità terapia. Ok, tre tirocinanti disponibili. Fai questo, va. Inizia corso. Facciamo questa formazione 26-28 giorni Bene, c'è tempo Vediamo se in questa maniera Poi si può promuovere Oh, è farita la terapia cuoio-padelluto Chiamiamo l'inserviente per riparare Ah, ok, già ci stava pensando da solo Ok Il terzo medico di base ha risolto il problema Certo che... Minchia Va bene, ma... È abbastanza equilibrato E sto guadagnando Quindi... Bene così Direi Obiettivo carriera raggiunto Ripara 100 macchinari Grande! Va bene Dove sta? Ottieni 100k anche qui E dovrò cominciare a usarli prima o poi, no? Ah, guadagna 100... Guadagna 1000k Molto bene Eh, devo cominciare a utilizzarli Sì, probabilmente sì, eh? Vabbè, cominciamo a sbloccare cose a caso Allora Dipinto cane, telefono Fornisce intrattenimento Orologio Sedia Disegni Vabbè Però qualcosa di utile Magari Facciamo Arcade Ok Disinventante per mani Aumenta l'igiene Vai Un dizionatore piccolo Va bene, va bene Ok Stop Li ho spesi Qua la formazione sta andando avanti E va bene così Qui ci vuole un Ah, vediamo un po' tra I vari infermieri Bacchia, mi sei Ifo Guarda I cavolo di inservienti pure, eh? Aspettiamo un secondo che Ne porti un altro Tra i candidati Subito subito al volo Ok Ora devo promuovere i membri dello staff E Vediamo Come fare Corso di formazione completato Terapia Perfetto No Fa schifo pure questo Vabbè Non so Allora vediamo Se ogni tanto rivedo che Serve un infermiere in giro Ah no Questa sta cercando lavoro Vabbè Sentite un po' Io restituisco il prestito Perfetto Mi ero scordato di questa cosa Allora Torniamo qui allo staff Inizioni di lavori Revisioni stipendio Come si fa a promuovere? No Niente di tutto questo Fatto che questa cosa È un po' strana Beh Questo non mi pare molto felice Devo dire Istiche Morale Formazioni Ah Ispezione sanitaria Ok Va bene Io continuo A non capire Come si promuovono Forse Deformazione È imbarazzante questa cosa ragazzi Allora Sapete cosa? Fermiamoci un secondo Vediamo come si fa Ritorno subito ragazzi Allora ragazzi Ho risolto l'arcano Ed era effettivamente strano Che non lo trovassi Perché non c'è Allora Funziona in questa maniera Tanto per cominciare Devo abbandonare la sfida Per forza Perché ci vorrà Un altro pochettino di tempo Molto semplicemente Vedete Questo è un po' strano Effettivamente L'esperienza del grado attuale 770 su 1000 Ok? Ogni stellina Ha un cerchietto intorno Che è appena visibile Questo qua è nero Ok? Piano piano Ogni persona Lavorando Acquisisce esperienza Quando raggiunge L'esperienza successiva Lo puoi promuovere Ok? Questo è il grado di abilità Dipende dal livello di promozione Effettivamente Questa è una cosa Che su Temospital C'era anche Ma era molto difficile Riuscire a A promuovere Cioè a Aspetta un attimo Fatemi aumentare Leggermente il salario A queste persone Dovrebbe essere più felici Dopo di questo Oddio Mica tanto Vabbè Comunque un po' Me lo posso permettere Insomma ragazzi La promozione funziona In questa maniera L'unico problema È che adesso Devo Semplicemente Aspettare E dargli Esperienza Giusto? Perché Lo fan Lo L'acquisiscono Lavorando Effettivamente Minchia C'è la coda In psichiatria Dio mio Me ne serve un'altra Oddio potrebbe essere Perché la zona È infestata Da sti cavolo Di Cavolo di clown Di mini Eccetera È pieno Quindi potrebbe Anche essere Va bene Una disinfettante Per le mani Addirittura Ok Condizionatore Piccolo Pianta E poi I poster Aumentano il prestigio Un bel po' Molto più di quanto pensassi Alla fin fine Ho sette medici E quanta gente Allora Questo è molto bravo E quindi lo assumerò Ho deciso Dottore sanitario Sta visitando I bagni Ma perché Vabbè Contento te Ok Qui ci manca Un medico Ok Questo è bravo Va bene Lo assumo Ho deciso Va bene È un po' Migliorata qua La situazione Vero? Sì Forse abbiamo Troppi inservienti Manco per il cavolo Otto pazienti Con monociglio Stanza per la terapia E riparto Ci sono Sei posti Sì Dai Limite di tempo 90 giorni Ok dai Dovrebbe farcela Vediamo come sta messo L'infermiere qua Vabbè Amen Si sta popolando Un bel po' L'ospedale Queste specializzazioni Le posso Posso farle addestrare Quindi tutto sommato Non è così problematica Ma l'abilità Ci mette un po' A A essere raggiunta Quella di livello Abbastanza alto E quindi Tendo a non voler Assumere Quelli troppo cessi Lo so che Quelli più bravi Costano di più Però In tutta onestà Sono più felice Così Non è un po' Che non facciamo questo Salute Dai Tutto sommato Madonna Questo sta messo Veramente Una merda Felicità paziente Tutto sommato Comunque Siamo messi bene Felicità staff Insomma Temperature Ok Sete Eh alcuni Sono molto assetati A quanto pare Eh oh Ma ci stanno I distributori Fame Questo un po' Meno Energia staff Ah sapete una cosa Dove sta Distributore Di bevande energetiche Vai Sblocca Adesso dovrebbe andare meglio Le bevande energetiche E qui due Invece di Non soltanto Snack salati Ma Va bene Va bene Dai Si dovrebbe Riuscire a fare Sta cosa Ci sono Tre medici Di base Non posso Farne un altro Minchia Questo sta Per morire Vabbè Essere più Veloci Si Però Onestamente Cioè Ho un sacco Di personale Sto piuttosto Bene No Curati tre Cure fallite Una Oh Male Eh vabbè Dai Sfida staff 90 giorni Senza decessi 25% Felicità Ah vabbè Accetta Proviamoci Proviamoci Ecco Sì Ma perché Sta così Male Minchia Comincia Terapia Basta Questo muore Se mi dai cura stimata 99% Bene Perché si può fare anche questo Effettivamente Eh Vai Entra tu Veloce Dai 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 Sto seguendo le tue vicende Attentamente E che se Dio vuole L'ho salvato Questa sfida Non mi dispiacerebbe Non mi dispiacerebbe vincerla Ah ci sta un po' di coda qua eh Eh vabbè Giustamente Con l'emergenza Ok ce l'ho fatta A salvarlo Grande Ok Va bene Sto guadagnando parecchio Ok Spettacolare Andata molto bene Perfetto Eh sta andando piuttosto bene L'unico problema è che adesso Cioè qua Membri dello staff D'accordo Fermiere capo D'accordo Esperenza nel grado attuale Come si fa a fargli aumentare l'esperienza Non puoi fare niente no? Va bene Così dovrebbe essere un po' più felice Forse Obiettivo carriera raggiunto Annaffia 100 piante Ok Questo sta venendo curato Quindi Tecnicamente Non dovrebbe morire adesso Giusto? Minchia i posti letto qua Va bene Mentre di tutto questo Andiamo un po' qua Grazie 100k Torniamo all'ospedale Benissimo Segnalazione speciale Sei pazienti Oh sei pazienti su otto Aiutato alla nostra reputazione Vabbè Dai Alla fine Promozione staff Grande Ok Josia Bilge Puoi ricevere una promozione Da medico a consulente Promozione da medico a consulente For now Più uno slot a formazione 10% velocità movimento 10% abilità diagnosi 10% abilità terapia Offri un aumento per mantenere soddisfatto lo staff Stipendio attuale Ah no Stipendio promuovi Esatto Perfetto Era così che funziona E per questo Prima non riuscivo a capire Che diavolo Vabbè Non devo neanche stare a controllare troppo Me lo dice in automatico Quando c'è la possibilità di promuovere qualcuno Molto 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 bene Va bene ragazzi Allora L'ospedale sta andando piuttosto bene Non so Adesso che cos'altro fare in realtà Come ho un sacco di soldi Comprerò Questo lotto Tanto mi servirà prima o poi Voglio dire C'è qualcosa che non ho fatto Qualcosa che potrei raddoppiare O qualcosa che potrei fare meglio Non so Libreria Aspetta Oggetto non valido per la stanza Ma mi sa che Qui invece si può fare Esatto Me lo ricordo dall'originale Team Hospital Ma se mettessi invece Una libreria tipo qui Metto una qui E una qui Che ne dite? E una qui Perché si Va bene va bene Tanti soldini li ho L'alto livello 9 Mica male La reputazione è estremamente alta Entrate 125.000 Spese 47.000 Direi che Direi che ci siamo Anzi possiamo pure pensare Eh Vabbè Vabbè Un medico in più Non è male Ah formazione staff richiesta Michael Gnegne Ha fatto molta esperienza Sul lavoro Potrà essere promossa Consulente Dopo aver completato Un po' di formazione Una nuova qualifica Ammenterà le sue abilità Ok forma ora Ehm Tirocinanti Intelligenza emotiva Allenamento alla resistenza E Un sacco di Tirocinanti disponibili Ehm Prendiamolo da fuori Oppure no Assistente capo dai Proviamo a fare così Anche se secondo me In questa maniera L'ospedale andrà un po' Puttane No Questi no Anche quelli con due Non vanno bene Questi Onestamente Ok E infatti Ecco che già Compaiono le code No Quattro Inservieri Sì Inservieri Inservienti Sono troppo pochi Vai vai Allenamento alla resistenza È ottimo Perché Renderà L'ospedale Più efficiente Se vanno Meno A riposarsi È Una buona cosa Sfida staff Da betti Asparagus Oh Soddisfatto La richiesta Quindi Membri dello staff Ne ho promosso Solo uno Sto comunque Guadagnando Davvero tanto Il che è bene Oh Cacchio Terapia fallita Uno è morto Aspetta Alcuni pazienti Sono costretti A stare in piedi Davvero Cacchio È morto Cosa ho visto Maledetto Vabbè Ok Così dovrebbe andare Un po' meglio Perfetto Bene Un po' meglio Questi si stanno formando Vabbè comunque la formazione Non dura neanche così tanto In fondo È più gestibile Mi ricordo che nel vecchio Temo Hospital Era davvero più complicata Sì da staff Ottieni una stanza Stanza dello staff Di livello 4 Ah Va bene Se io Modificassi In questa maniera Aspetta un attimo Allora Eh quanto prestigio Ok Fatto Direi che ci siamo Promozione staff Grande Ok Vai vai Serviente Ottieni una stanza Dello staff A livello 4 Perfetto Un altro È stato finalmente Promosso Forse abbiamo troppi Inservienti Manco per il cavolo Tu piuttosto Approfittane Per andare a riposarti Finché puoi Finché non stai facendo Un cavolo Di niente Ah Corso di formazione Completata Allenamento alla resistenza Molto Molto bene Un secondo Ah Questi vanno a prendersi Le bevande energetiche Di là Ah Vediamo i premi Di quest'anno Oh Quasi tutti Perfetto Sette su otto Eh nessuna morte Purtroppo questa è morta Vabbè Grande però Vabbè ragazzi Questo ospedale Sta andando benissimo Ok Per fare questa Cavolo di stella Una stella Annaggia Allora Rifacciamo un po' Sta formazione Effettivamente però La formazione Cioè Boh Aspetta un po' Consulente senior Perché no? Vai Fai il corso Tanto i dottori Ce ne sono un bel po' In questo momento Vabbè di che stai parlando? Vabbè Impara motivazione Ok Benissimo Davvero davvero ottimo Va bene Va tutto Che è una meraviglia Ragazzi C'è Poca roba Che davvero È problematica Non mi viene in mente Niente che sia Veramente un super problema In questo momento Quindi Cavolo Bene così Allora ragazzi Io direi che per oggi Possiamo anche salutarci qua E effettivamente Darci appuntamento a domani Dove speriamo di chiudere Questa prima stella E questo ospedale E Andare avanti Procedere Perché non vedo l'ora Di sbloccare più cose interessanti Va bene ragazzi? Quindi Direi che per oggi È davvero tutto Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Lasciate un bel like A questo video Se vi è piaciuto E se vi sta piacendo Questa serie E qui sotto in descrizione Trovate come sempre Tutti i link ai miei social E tutti i link Per supportare il canale D'accordo? A presto ragazzi